Che giudice, l'occhio! Avevo appena pulito! No, tazza il burro! Quella è terra! Attenso, fai! No, tazza il burro! Attenso, fai! Attenso, fai! A destra! Pronto! Dietro di te! Attenso, fai! Attenso, fai! Attenso, fai! Attenso, fai! Pronto! Mista! Attenso! Attenso! Sono pronto! Padre occhio! Padre occhio! Ah! Ah! Oh! 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 Avete davvero creato l'ascia per mia madre? Oh, la riconoscerei ovunque È una delle migliori È stata forgiata con le grida dei troll dei ghiacci Una ventina, più o meno Perché lei? Come l'avete conosciuta? Ci aveva cercato lei Era una persona speciale Che voleva proteggere la gente Creare l'ascia era per noi l'occasione di dare potere A chi l'avrebbe usato per fare del bene Parlava persino la nostra lingua Diceva Matherin Semgengur Egin Vengum Hans Gengurain Bravo! Impressionante! C'è molto di lei nei tuoi occhi Sai? Grazie, Cindy Non mi toccare! Cosa? Non ti ho toccato Tornerò più tardi Fate attenzione a dove andate Non è rimasto più nessuno di gentile Sono andati via tutti Quelli che incontrerete probabilmente cercheranno di uccidervi Ottimo! Lo so che non sono affari miei Ma se fossi in te mi cancellerei quel simbolo dal collo Ci è stato detto che ci avrebbe protetto Era una bugia? Oh, lo so che è un simbolo di protezione Ma non puoi dipingere con quel pigmento senza prima mischiarlo con urina di cinghiale E davvero questo è meglio della morte? Solo un po' Beh, il collo è tuo Borgh answered Grazie Grazie a tutti.